C'era tanti secoli fa, millenni forse, una ragazza che era un portento nella tessitura e questa ragazza era così tanto consapevole della sua bravura che osò sfidare niente meno che una dea, Atena, la cosiddetta protettrice delle tessitrici. E insomma in una sfida tra loro due questa ragazza fece un arazzo bellissimo, meraviglioso e questo arazzo lei rappresentò tutte le colpe dell'Olimpo e ovviamente scatenò la furia di Palla di Atena che la trasformò in un piccolo nero ragno. A questa terra che è tanti anni che mi vede qui, dedico Aracne e l'accompagnamento è un brano composto da Giuseppe Anclano, Elide e tra un pochino ci raggiungerà un altro ospite, Michael Argentini. Aracne A Vivo 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.